Grazie a tutti. Per approfondire insieme oggi con l'aiuto del Signore immergersi negli abissi divini, nei mari oceanici ed eterni sconfinati dell'Immacolata Concezione, uno dei prodigi in assoluto più grandi operati dall'Altissimo in favore di Maria Santissima perché potesse essere una degna dimora del verbo fatto carne. Io mi unisco anzitutto alle disposizioni del cuore di lei perché possa avere la maggiore capacità possibile per parlare di questi grandi misteri. Voi sapete che San Bernardo diceva sempre che gli prendeva un grande timore quando doveva parlare della madre di Dio perché per parlare di questa creatura ci vorrebbe un'eloquenza ben superiore anche a quella del più grande oratore umano. Speriamo che il Signore ci aiuti per l'Immacolata Concezione. La volta scorsa, tanto per circostanziarci un pochino, abbiamo introdotto il tema dell'Immacolata Concezione, abbiamo visto i fondamenti scritturistici che sono impliciti, lo ricordiamo, alcuni aspetti della tradizione patristica, soprattutto il fatto che da molto presto la Madonna è stata definita come la tutta santa, quindi l'incompatibilità, oserei dire, ontologica tra Maria e peccato. E poi la successiva elaborazione medievale, di che peccato si parla? Ecco, perché che non ci sia il peccato siamo sicuri, che non ci sia il peccato attuale, ma non c'era manco il peccato originale, e abbiamo visto anche lì vedere che San Tommaso, che non era arrivato al concetto di retenzione preservativa o preventiva, quindi pensava che per essere salvati da Cristo bisognava essere per forza caduti e non semplicemente impediti di cadere, non era un immacolatista, a differenza di Don Scotto che invece ebbe la geniale intuizione, certamente ispirata dallo Spirito Santo, del concetto teologico di retenzione preservativa o preventiva, che come vedremo è quello che poi la Chiesa, attraverso la voce del successore di Pietro, che ha parlato ex cattedra, quindi definendo un dogma di fede, infallibile, quindi non impugnabile, ha definito appunto essere l'Immacolata una verità definita da Dio. Quindi andiamo a vedere l'inefabilis Deus, perché oggi di questo dobbiamo trattare, la bolla è breve, quindi si può tranquillamente darne una lettura commentata integrale, prima, ecco, introducendola un momentino, no? Nel Densinger si trova ai numeri 2800-2804, dove nei primi due si dà il fondamento dell'Immacolata Concezione, e il fondamento dell'Immacolata Concezione e il fondamento teologico assolutamente indiscutibile è la futura maternità di Maria, quindi lei è immacolata in funzione e in considerazione della sua missione di madre di Dio, questo è sicuro. Nel paragrafo 2802 si dà ragione di una continuità storica nel corso del tempo di questa credenza dell'Immacolata Concezione, molto importante per questo dogma, per esempio, come per molte altre cose, non è questa la sede per approfondire questo argomento, però è il cosiddetto sensus fidei o sensus fidelium, di cui parla la Lumen Gentium, se non ricordo male, ma non dovrei ricordare male, al paragrafo 12, cioè il senso della fede dei fedeli, che quando, come capite, diffusamente sente che una cosa è vera, non si sbaglia nel credere. Sono stati partiti degli studi molto belli su questo sensus fidelium, anche a partire dalle intuizioni che in merito, insomma, a suo tempo formulò il Cardinal Newman, il Cardinal Newman, sapete, prima anglicano, poi diventato cattolico e credo, non so se è già beato o addirittura santo, che a partire da lui, lui ne fece alcuni e altri ne fanno seguiti, si vide proprio questo sviluppo del sensus fidelium già a partire dalla grande crisi ariana, cioè la grande crisi ariana del IV secolo, quella che portò al concilio di Nicea, vide, come dire, la sopravvivenza della vera fede nella divinità di Cristo, soprattutto per il forte radicamento a livello della fede dell'uomo comune. Cioè, se tu parlavi con un cristiano, dici, chi è Gesù Cristo? Al figlio di Dio, finito. Non lo so se c'era quando non c'era, a destra e a sinistra, tutte le questioni che faceva questo empio prete di Alessandre, che poi fu scomunicato, che era ario, ma se tu parlavi con l'uomo, dici, Gesù Cristo è Dio, basta, non mi importa niente. Ecco, così, sull'immacolata, immacolata, la Madonna è senza peccata, la Madonna è immacolata, certamente che immacolata, figurate se sta il peccato dentro la Madonna, no? Sto semplificando un po', però questo è il concetto, ecco, è un po' come, questo per scoprire anche, vedete, ci sono delle dimensioni perdonatemi se, queste sono, penso, puntate, la Madonna penso che sia contenta, no? Quindi se ogni tanto ampliamo l'ambito di orizzonte su una dimensione catechetica, no? Il senso della fede, quindi questa, su che cosa si fonda? Sul fatto che lo Spirito Santo, quando vuole far comprendere qualche cosa, crea la comunione. C'è anche il collegio episcopale, no? Cioè, voi sapete che il Papa succede a San Pietro come singolo, ma i Vescovi succedono agli Apostoli come collegio. D'accordo? Oggi la Chiesa contemporanea sta riscoprendo, a fianco certamente alle funzioni monocratiche che ci sono sempre state e sempre ci saranno nella Chiesa, grazie che sono basilari, il Sommo Pontefice, il Vescovo Dio Cesano, il Parroco, il Superiore Religioso, insomma, a tutti quanti i livelli, però sta riscoprendo questa importanza della collegialità e della comunionalità, perché, questa è l'esperienza, anche quando si fa un concilio, tante volte l'ho detto, il concilio, il discorso è questo qui, se il Papa non mette la firma sotto una Costituzione o sotto un decreto, quel decreto non passa e se tutti i Vescovi fossero per dire contrari e il Papa ci mettesse la firma, quel decreto passa. Ma è chiaro che tutti quanti i Papi che hanno guidato un concilio hanno sempre fatto in modo che per arrivare ad una votazione che approvasse un documento si arrivasse alla pressoché totale unanimità, cioè su 3.000 Vescovi, 5 possono dire non placere, d'accordo? Che è una cosa assolutamente risolta. Ma se comincia ad essere 2.300, generalmente, come dire, il Papa dice, pensiamoci un po', facciamo un'altra formulazione, no? Ecco, perché questo principio è un principio santo di per sé stesso, perché su di esso si basa l'operatività dello Spirito Santo, appunto, che agisce nella Chiesa come corpo, come comunità, ha certamente dei carismi che dona ai singoli, in quanto singoli, per esempio il Papa quando parla ex catedra, però interviene in queste questioni. Quando è che si apre un processo di canonizzazione nella fase diocesana? Quando c'è la fama di santità. E da dove viene la fama di santità? Dal popolo di Dio, cioè una persona come il Vescovo apre un'inchiesta per vedere se poi è il caso di mandarla a Roma e quindi proprio dare inizio formale alla causa con la posizio della Santa Sede di canonizzazione? Ma tutto quanto parte da cosa? Il popolo di Dio pensa che quello è santo. Pensa che quello è santo. Cioè, c'è la fama di santità. E certamente per essere la fama di santità non basta che ci sia una persona che pensa che sei santo. Deve essere un'opinione diffusa. D'accordo? L'essere diffuso di tale opinione è il motore propulsivo della partenza del processo di canonizzazione. Perché? Perché se sono in tanti a pensarli, vuol dire che lo Spirito Santo probabilmente sta operando. Ecco, quindi questo è fondamentale. Quindi anche nella definizione di questo dogma. È chiaro che il Papa se vuol stare la mattina e può dire la Madonna è immacolata. Non c'è manca spiegazioni. Cioè, se volessi si affaccia dalla finestra di San Pietro senza fare tutte le cose formali. Bene, io oggi parlo come successore di Pietro nell'esercizio della mia funzione di confermare nella fede. Intendo formulare un dogma e un dogma di fede divina e cattolica, quindi assolutamente non impugnabile per il futuro da nessuno e dico che la Madonna è immacolata. Arrivederci, con trenta secondi abbiamo finito. Ma non si fa così. Capite? Anche perché il Papa non è un incosciente, no? Quindi deve prima di fare un dogma verificare anche queste cose qui, no? Ecco così. Vi dico queste cose perché impariamo anche un po' come è la vita nella Chiesa, no? Quindi come opera lo Spirito nella Chiesa, come operano le persone di Chiesa. E questo ci dia anche un pochino un'idea, un pochettino dello stile, diciamo così, da osservare e da conservare nel nostro vivere la Chiesa e nella Chiesa, quindi nelle nostre comunità ecclesiali, eccetera, 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 no? Punto. Nel 2803 finalmente viene data la definizione dogmatica e poi nel 2804 come sempre, data la definizione dogmatica si dice che guai a chi si azzarda di dire il contrario perché esce fuori dalla comunione con la Chiesa. Ora andiamo, data questa presentazione un po' così, andiamo a leggere dettagliatamente questi pochissimi, no? Sono cinque paragrafi, quindi proprio breve, breve, breve. Allora, la bolla si chiama Ineffabilis Deus, voi sapete questo è un'altra curiosità, no? Tutti i documenti della Chiesa, qual è il titolo? Il titolo dei documenti della Chiesa sono le prime due parole. La Lumen Gentium, si chiama Lumen Gentium, se vedete il testo latino, comincia con Lumen Gentium, la Sacrosanctum Concino, la stessa cosa, la, che ne so, la Fides Tratio di San Giovanni Paolo II, la Moris Letizia di Papa Francesco, le Evangelii Gaudi, sono sempre le prime due parole di un documento. C'è questa tradizione antichissima nella Chiesa per cui i titoli dei documenti vengono dati sempre dai primi, dai primi due parole, d'accordo? La spesa alvi di Benedetto XVI, dobbiamo fare un po' di parcondicio, abbiamo un mila di tre gli ultimi papi, ecco, va bene, facciamo anche, ne so, l'Umane Vite di Paolo VI, ecco, la grande, ecco, va bene, la pace Minterris di Giovanni XXIII e l'Umane Generis di Pio XII, basta, oltre il Pio XII non ci arriviamo che se no dobbiamo variare fino a San Pietro, no? Ecco, bene, cominciamo la lettura. Allora, Inefabili Steus, quindi comincia così, quindi Dio è ineffabile, e... Un momento, eh... Dio è ineffabile, fin dal principio, prima dei secoli, scelse e preordinò al suo figlio una madre, nella quale si sarebbe incarnato e dalla quale poi, nella felice pienezza dei tempi, sarebbe nato. E a preferenza di ogni altra creatura la fece segno a tanto amore da compiacersi in lei, sola, con una singolarissima benevolenza. Per questo mirabilmente la ricolmò, più di tutti gli angeli e di tutti i santi, dell'abbondanza di tutti i doni celesti, presi dal tesoro della sua divinità. Così, ella, sempre assolutamente libera da ogni macchia di peccato, tutta bella e perfetta, possiede una tale pienezza di innocenza e di santità, di cui, dopo Dio, non se ne può concepire una maggiore, e di cui, all'infuori di Dio, nessuna mente può riuscire a comprendere la profondità. Ecco, trovo qui, con mia gradevole sorpresa, devo confessare che non lo ricordavo, detto in questi termini, quindi che un Papa, in una definizione dogmatica, dice della Madonna che all'infuori di Dio nessuna mente può riuscire a comprendere la profondità. Cioè, la santità di Maria Santissima può essere conosciuta, compresa e scrutata solo da Dio. Ecco perché per quante lodi, per quante cose belle noi dicessimo della Madonna sono sempre meno di quante se ne potrebbero dire, perché va ampiamente al dirà di tutto il meglio che si possa concepire e pensare di lei. È una cosa molto bella questa qui, figlioli miei cari, bellissima, che ci fa comprendere l'eccezionale portata di questa creatura, insomma, è come Dio l'abbia fatta veramente tutta pura e tutta santa, perché doveva essere tutta per sé. Ancora, questa pienezza di santità, viene detto dal Papa, è d'innocenza, è tale che dopo Dio non si può concepirne una maggiore. Quindi la Madonna è seconda solo a Dio. E se c'è un abisso tra Dio e Maria, perché Dio è Dio e Maria è una creatura, è anche vero che c'è un abisso che chiama l'abisso, quindi c'è un abisso tra Dio e Maria Santissima, ma c'è anche un abisso tra Maria Santissima e tutte le altre creature. Ecco, perché si trova veramente ampiamente al di sopra e al di là. Ancora, qui c'è il principio del decreto prima della creazione della doppia predestinazione, un unico decreto in cui Dio decise l'incarnazione del Verbo e di Maria Santissima. Proprio all'inizio, fin da principio e prima dei secoli, scelse e preordino al suo figlio una madre. Questo per particolare è importantissimo. È importantissimo perché, voi sapete, se uno dovesse pensare qual è la prima cosa che Dio ha pensato ad extra, cioè voi sapete che la vita della Santissima Trinità al proprio interno, quindi nelle relazioni tra le tre persone, è eterna. Quindi da sempre c'è, semplicemente. Secondo il nostro modo di pensare, perché poi nell'eternità il tempo non c'è, però noi dobbiamo pure pensare, perché comunque alcune cose sono successe, anche se non sappiamo perfettamente comprendere come, Dio a un certo punto, ma prima dei secoli però, quindi prima di compiere qualcun atto creativo, pensa e preordina cosa? Dice, farò qualcosa al di fuori di me, farò uscire la mia potenza, gli atti della mia volontà, ecco, per chi ha seguito le catechesi antiche, fatte qui sull'altro con consiglio, perché questo è, e farò qualcosa al di fuori di me, perché semplicemente per diffondere e comunicare l'amore eterno infinito che ce l'ho, perché qualche essere intelligente possa avere questo dono immenso di poterne godere. Questa è una cosa bellissima, il Pai Eterno ha fatto, insomma, perché, cioè, è il motivo per cui io sto parlando con voi, perché voi mi state ascoltando, insomma, no? Che capite? Perché, ecco, quindi, un tempo non c'era la creazione, c'era il nulla, c'era il di fuori di Dio, quindi, ecco, chiuse parentesi. E qual è la prima cosa? Allora, pensa la creazione nel verbo fatto carne, perché? Perché nel verbo fatto carne, se uno fa attenzione, tutti i livelli della creazione sono contenuti. Allora, cosa vediamo nella creazione? Dio che cosa ha creato? Ha creato, cominciando dal più basso, la materia inerte, e dentro il corpo umano la materia inerte c'è, d'accordo? La materia proprio organica, inorganica, biologica, diciamo così, chimica, d'accordo? Poi, ha creato le forme di vita vegetali, e noi una vita vegetativa ce l'abbiamo, come si dice quando una persona è ridotta allo stato vegetativo, no? Cosa fa? Si nutre artificialmente, no? E ha le funzioni, diciamo così, vitali, che funzionano anche a prescindere, diciamo così, dalla sua volontà, no? E questi sono il regno vegetale. Poi ha creato il regno animale, dove a seconda dei gradi, sono tantissimi gradi nel regno animale, non c'è solo una vita vegetativa, ma c'è il moto, e ci sono, a seconda poi delle specie animali, dei primi gradi embrionali, non soltanto di istinto, ma anche di quelle che poi noi, per farci comprendere, chiamiamo le passioni. Gli animali hanno la paura, hanno il desiderio, hanno l'amore, gli animali si amano, si accoppiano, eccetera, eccetera, no? Quindi, il regno animale, il regno minerale, il regno vegetale, il regno animale, poi, prima di parlare dell'uomo, parliamo di quelli che sono più grandi di noi, c'è il regno spirituale, che sono gli angeli, e gli uomini cosa sono? Sono animali con lo spirito, quindi è la figura intermedia tra l'animale e l'angelo, quindi è uno spirito incarnato. Allora, però, voi capite che dentro l'uomo ci sono contenuti tutti i gradi di essere, perché ci sono tutti quelli inferiore e c'è anche quello superiore perché io ho l'anima, d'accordo? L'angelo è più di me perché è un essere spirituale pure, è più grande di un essere materiale, però non c'è il corpo a differenza di me, c'è qualcosa di meno. Ecco, capite? Allora, la prima cosa che pensa Dio è il verbo incarnato, perché? Perché tutto quello che crea, da un lato è come se lo facesse fuori uscire da suo figlio e dall'altro lo prende tutto in suo figlio per non militarlo, edificarlo, elevarlo, divinizzarlo. Ecco perché l'incarnazione, come sempre lo stesso Dunscoto, senza dubbio affermerà contro Sant'Ommaso d'Aquino e anche in questo caso c'è ragione Dunscoto, se il verbo si sarebbe incarnato, lo certo sarebbe stato una favola, ragazzi. Sarebbe stato un tripudio, sarebbe stata una cosa meravigliosa. Sarebbe sceso come re in mezzo ai suoi figli a darci la massima nobilitazione possibile. Già avevamo il dono della divina volontà, guardamolo, lo so che altro sarebbe inventato con l'incarnazione, no? Questo sarebbe stato. Allora però, contestualmente a quest'operazione, cosa ha fatto? Ha pensato ad una creatura, che è Maria Santissima, che doveva farla, almeno perfettissima, d'accordo? perché la componente, diciamo così, corporeo, umano e temperamentale del figlio fatto uomo doveva prenderla da questa creatura. Quindi in questa creatura riversava tutto quello che si poteva riversare in un ente creato. E questa è la Madonna. Questa è la doppia predestinazione eterna. Prima dei secoli. Sapete che sulla base di questa, questa è una verità di fede, questa non si discute, d'accordo? Quindi che prima della creazione del mondo Dio aveva deciso di mandare il figlio a farsi uomo e aveva scelto una creatura e pensato una creatura per questo, questo non si discute. Sulla base di questa constatazione, voi sapete che come ci sono delle ipotesi teologiche sul peccato originale degli uomini, che sarebbe stato l'ingresso della sessualità nell'ambito della razza umana, cosa che di per sé stessa non sarebbe stata voluta da Dio. Uso sempre i condizionali perché sono, ripeto, ipotesi teologiche. Ipotesi però che, come tutte le ipotesi teologiche, possono essere fondate o meno. Così c'è l'altra ipotesi teologica, qui parliamo in una radio gestita dalle Francescane dell'Immacolata, sappiamo benissimo che San Massimiliano Maria Colbe è ultra giustamente venerato in questo istituto che si rifà la sua spiritualità. Questa cosa, per esempio, era una posizione tenuta anche da San Massimiliano Maria Colbe circa il peccato originale degli angeli. Cosa hanno fatto gli angeli? Che è successo? Allora, sulla base di questo decreto, che questo è vero, cioè che Dio aveva deciso non c'era dubbio, alcuni teologi hanno detto sapete cosa hanno fatto gli angeli? Perché si è arrabbiato tanto Lucifero? Perché ha visto questa cosa? Perché Dio ha detto agli angeli, guardate, io creerò tutto, creerò anche una natura simile alla vostra ma molto inferiore che sono gli esseri umani, d'accordo? Che come voi penseranno, vorranno, ameranno, ricorderanno, ma saranno incarnati, quindi saranno un corpo, un corpo che di per sé stesso rende immensamente inferiore la nostra natura quella angelica. D'accordo? Dice, mio figlio si farà uomo e lo farà attraverso una donna. Voi da angeli dovete adorare lui lo stesso anche nella sua natura umana e dovete venerare come vostra regina questa donna perché per il fatto di essere la madre del verbo vi supererà indignità. Questa era la prova, la famosa prova degli angeli. Lucifero ha detto eh? questo io non lo accetterò mai. Potrebbe pure passare che ti vai a fare uomo e non angelo ma che io poi devo mettermi a venerare una donna allo stato puro questo non lo farò mai. Ecco perché capite c'è questo odio feroce cioè questa ipotesi teologica fa anche come dire ricordate il protovangelo porrò animicizia tra te e la donna perché il diavolo ce l'ha così tanto con Maria? Perché San Luigi Maria Monfort nel trattore della valeduzione dice ma è certo che Gesù Cristo c'è confronto alla Madonna non possiamo nemmeno parlare ma com'è che a volte sembra che il diavolo c'ha più paura addirittura della Madonna che di Gesù Cristo mica perché la Madonna è più grande di Gesù Cristo ma perché è la causa quasi principale della sua rovina cioè la creazione di Maria il pensiero di Maria ha mandato su tutte le furie Lucifero e ce lo manda tuttora quindi ripeto questa parte è un'ipotesi teologica ma il decreto della doppia predestinazione è entrato nell'enfabilisteus quindi fa parte del patrimonio di fede della Chiesa Cattolica d'accordo non è oggetto di discussione d'accordo il resto si però capite questo cioè come una certa lettura del peccato originale sulla base di quell'ipotesi teologica che ho accennato e che credo di aver già trattato in queste trasmissioni nelle puntate precedenti comunque ho fatto anche altre catechesi su questo argomento quello spiega tante cose d'accordo perché noi cioè la teologia questi sono catechesi ma sono catechesi teologiche qui stiamo parlando di dogmi d'accordo quindi stiamo parlando di teologia dogmatica la teologia ha proprio come scopo non quello di spiegare tutto perché non si può spiegare tutto però di mettere un pochino di luci perché la rivelazione non può essere completamente compresa d'accordo perché Dio rimane Dio e la sua del suo mondo rimane un mondo che a noi è fondamentalmente inaccessibile e misterioso però attenzione che più di qualcosa si può e si deve comprendere perché è tutto profondamente ragionevole cioè tutto profondamente concatenato capite e questo ci può servire per la nostra crescita per alimentare in noi la divina sapienza d'accordo e per confermare confortare solidificare come si dice rafforzare la nostra fede d'accordo che non è dice vabbè ci credo no 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 c'è tutta quanto una sua logica intrinseca d'accordo quindi su diverse cioè come dire il grande la grande impascatura dogmatico dottrinale della rivelazione io ve lo dico lo so queste cose cioè è perfettamente comprensibile intellegibile d'accordo perfettamente ecco bisogna bisogna capirla bene vederla bene ma è perfettamente comprensibile intellegibile e ha una sua coerenza una sua logica interna ferrea assolutamente ferrea d'accordo ripeto non si spiega tutto ma le coordinate di comprensione del tutto si riescono abbastanza bene a identificare d'accordo e questo è il compito della teologia di nuovo chiusa parentesi allora andiamo detto questo continuiamo la lettura abbiamo letto prima il paragrafo 2800 passiamo al 2801 che stiamo ancora nell'introduzione no? e certo era del tutto conveniente che una madre così venerabile e così venerabile risplendesse sempre ad orna dei fulgori della santità più perfetta e immune interamente dalla macchia del peccato originale riportasse il più completo trionfo sull'antico serpente poiché a essa Dio Padre aveva disposto di dare l'unigenito suo figlio generato dal suo seno uguale a se stesso e amato come se stesso in modo tale che egli fosse per natura figlio unico e comune di Dio Padre e della Vergine poiché lo stesso figlio aveva stabilito di rendere la sua madre in modo sostanziale poiché lo Spirito Santo aveva voluto e fatto sì che da lei fosse concepito e nascesse colui dal quale egli stesso procede grande Papa Pionono insomma sicuramente c'era avuto dei collaboratori cioè bellissimo leggere i documenti del Magistero della Chiesa perché il rigore teologico proprio la precisione puntualissima di linguaggio è davvero straordinaria insomma da diletto insomma da veramente da proprio il come dire il profumo di Chiesa Cattolica insomma se mi si passa un po' questa questa espressione no e allora che cosa si aggiunge qui allora che la santità perfetta necessita l'immunità anche dal peccato originale non solo a livello di santità personale d'accordo perché se uno avesse il peccato originale certamente e anche se è soltanto il vomito del peccato originale non potrebbe assolutamente assorgere un grado di santità grande come quello che ha raggiunto l'immacorata noi sappiamo che San Giuseppe ha fatto tante catechesi San Giuseppe è certamente tra gli esseri umani il più santo dei santi e la santità di San Giuseppe era indubbiamente un altro pianeta ma tra la santità di San Giuseppe e la santità della Madonna ci sono abissi di pianeti perché San Giuseppe per quanto santo fosse aveva contratto il peccato originale io sapete che San Giovanni Battista che Gesù dice tra i nati di donna fino a Gesù non è sorto uno più grande però il più piccolo del Regno del Cere è più grande di lui San Giovanni Battista noi sappiamo che il peccato originale si è tenuto per sei mesi perché alla visita di Maria Santissima tutta la tradizione della Chiesa Unanime che era il sussulto del bambino nel grembo era il suo essere liberato dalla colpa d'origine io mi sono sempre chiesto San Giuseppe questa è un'altra ipotesi teologica oggi stiamo dato che qui stiamo andando in alta dogmatica ci prendiamo qualche licenza io mi sono sempre chiesto ma per me una pia ipotesi teologica quello che San Tommaso d'Aquino diceva per la Madonna cioè è stato liberato dal peccato originale subito dopo non mi stupirei è un'ipotesi se fosse successo per San Giuseppe perché certamente San Giuseppe doveva essere lo sposo della Madonna doveva starle vicino per una vita e doveva essere il padre mutativo di Gesù non semplicemente il precursore quindi lo sapete che dice la grande dietriba chi è più grande San Giuseppe o San Giovanni Battista la risposta l'ha già dato a Gesù se il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui cioè quello che c'è la grazia santificante che Gesù lo porta figuriamoci un santo del calibro di San Giuseppe che ha come visione quella di stare vicino castamente santamente come vero sposo senza essere marito della Madonna e di essere il padre mutativo il nutrizio di Gesù allora io personalmente spero che se mi sente il Papa non mi mandi qualche scomunica ma il Papa è molto devoto a San Giuseppe quindi spero 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 proprio di no anche perché sto parlando di ipotesi teologiche io non mi stupirei se andando dall'altra parte quando tutto quanto sarà più chiaro si vedesse che San Giuseppe è stato liberato immediatamente dalla colpa d'origine cioè ciò che i non immacolatisti per preservare la retenzione universale di Gesù non considerando quella preservativa pensavano della Madonna capite lo facciamo rientrare dopo averlo messo fuori dalla porta dalla finestra semplicemente cambiando soggetto di attribuzione non Maria Santissima che non poteva avere niente a che fare con la colpa d'origine adesso diremo perché ma San Giuseppe allora il perché anche un altro però perché la vittoria sul serpente doveva essere perfetta spiega Pio IX riportasse il più completo trionfo sul serpente il più completo trionfo sul serpente e anche qui questo completo trionfo sul serpente quindi a mio avviso può essere letto anche in funzione dell'ipotesi teologica circa il peccato originale angelico cioè l'odio contro la Madonna perché è chiaro che poi tutto l'inferno si è scatenato contro la la Madonna no? e quindi la Madonna non poteva averci come dire il punto debole è perché la macchia originale ci rende schiavi del demonio è come dire è un'unghiata d'accordo che comunque rimane nella nostra anima quindi questo non poteva proprio essere possibile capite perché lei sarebbe stato con lei che gliel'avrebbe dimostrato al demonio che è più grande di lui capite perché la Madonna gliel'ha dimostrato cioè quello che Dio gli dice non è soltanto la più grande capite perché la Madonna non è solo la più grande perché è la madre di Dio la Madonna è la più grande perché è vissuta da degna madre di Dio cioè è diventata madre di Dio perché tutta la pienezza di grazia che il Signore gli avrebbe dato lei ne ha fatto un uso meraviglioso la Madonna è proprio un canto stupendo bellissimo edificante alla nostra libertà perché la brutta figura che hanno fatto Adam e Deva e l'hanno fatta la brutta la Madonna non c'era niente di più da Adam e Deva niente di più di per se stesso parlando niente di più niente di più da un punto di vista ontologico penso che non soffenda insomma perché Adam e Deva erano innocenti d'accordo con tutta la pienezza di grazia e col dono della divina volontà per chi come dire conosce gli iscritti di Luisa Piccarretta cioè la pienezza della massima santità e unione con Dio possibile ce l'avevano anche loro d'accordo ma anche a prescindere da questo particolare che è accidentale nella liberazione pubblica in ogni caso la condizione di Maria riproduce riproduce quella di Eva e a chi si deve debitare la colpa di Eva il peccato di Eva a Dio o alla responsabilità di Eva domanda retorica e a chi si deve attribuire il fatto che la Madonna ha fatto percorso netto ha fatto tutto Dio e lei non c'ha nessun merito direi proprio di no direi proprio di no questo figlioli miei cari stiamo andando verso la conclusione vorrei proprio lasciarlo come come spunto di meditazione che adesso arriviamo alla fine del paragrafetto sì però provate un attimo a pensare alla serietà estrema serietà della libertà dell'uomo Eva è caduta Maria no a chi la andiamo attribuire al fatto che l'anima di Eva la sua libera volontà l'ha adoperata malamente e Maria no l'ha adoperata bene capite cioè io se vi dico più tempo passa più esperienza accumulo più guardo dentro di me e guardo intorno a me e guardo anche le cose che il signore mi fa vedere le anime che mi fa conoscere tante cose accadente di un prete io dico sempre qui l'asse l'asse è la nostra libertà ovvero la libera volontà dell'uomo che è realmente libero non ipoteticamente è proprio libero libero e con le mani sue si va a costruire una grande vita o va a rovinare i grandi progetti di Dio ma io a me a volte la mia mente perdonate insomma proprio si si va a perdere io dico ma come hanno fatto dammi cioè capite proviamo un attimo a pensarci bene ma i danni che hanno fatto per un atto balordo per un atto cioè è pazzesco la vita che si sono persa e che l'hanno fatto per da tutta la razza umana capite cioè a me quando penso a queste cose dico sempre signore mio per favore guarda ti imploro ti supplico diteglielo pure voi se vuoi un consiglio salvami da me stesso non mi devi salvare dal diavolo nemmeno da salvami da me salvami non ne permette che succedano queste cose per favore ti prego guarda non fa tutti sti danni ecco veramente capite ecco chiudo sempre parentesi quindi evviva Maria evviva la sua libertà ben usata no e chiudo il paragrafetto e chiudiamo la puntata poiché ad essa Dio Padre aveva disposto di dare l'unigenere del suo figlio generato dal suo seno uguale a se stesso in modo come se stesso in modo che egli fosse abbiamo visto Dio per natura attenzione figlio unico e comune di Dio Padre e della Vergine cioè Dio Gesù è figlio di Dio? Sì Gesù è figlio di Maria? Sì ma Gesù è vero figlio di Dio? Sì sì ma Gesù è vero figlio di Maria? Sì 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 senza nessun dubbio sì la Madonna è veramente madre di Dio o è soltanto uno strumento come dire passivo no 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 la natura divina il verbo la presa dal Padre la natura umana il verbo la presa da Maria creata nel suo grembo dallo Spirito Santo negli scritti della Piccarreta ho visto qualche giorno fa particolare grazioso anche questa altre ipotesi teologiche così finiamo altra cosa che possiamo dargli dice che cinque gocce di sangue della Madonna sono state lavorate dallo Spirito Santo per formare la natura umana di Gesù nel suo grembo cinque gocce di sangue prese dal suo cuore immacolato bello no? ma fantastico proprio no? cinque come sarebbero state cinque le piaghe di Gesù no? aperte sulla croce tanta tanta roba però anche questo è poesia comunque la Madonna è vera madre di Dio così come il Padre è vero padre di suo figlio bene riprenderemo a Dio piacendo lunedì prossimo dalla rapidissima rassegna storica fatta dal Beato Pio Nono e poi andremo a studiare bene la formulazione dogmatica dell'Immacolata Concezione una santa giornata a tutti una santa settimana